Grazie a tutti. A molti anni fa, tutti gli esseri viventi che popolavano il nostro pianeta vivevano nelle acque. Queste, ancora oggi, ospitano oltre il 30% delle specie animali e vegetali conosciute. Mentre oggi si sa molto della vita sulla Terra, per certi versi i mari sono ancora misteriosi e si ritiene custodiscano nelle loro profondità molta biodiversità sconosciuta. Le nuove tecnologie, sempre più evolute, consentono di studiare ambienti sino a ieri inaccessibili come i mari profondi, che sorprendono per la loro ricchezza, ma al tempo stesso fanno temere per la loro incolumità, poiché appaiono fragili e sensibili all'impatto umano, sempre più intenso. L'assessorato del territorio e dell'ambiente della regione Sicilia ha istituito l'osservatorio della biodiversità siciliano. L'osservatorio, che si avvale delle competenze del CNR, dell'ARPA e dell'ISPRA, ha come obiettivo principale la realizzazione della base conoscitiva necessaria alla tutela e alla conservazione della biodiversità presente. L'osservatorio è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e le sue attività sono in sintonia con la Strategia Nazionale per la Biodiversità. Tra le sue missioni c'è anche l'esplorazione della vita in ambienti estremi e fragili, la messa a punto di sistemi di tutela e lo studio della biodiversità. L'ambiente marino è molto sensibile sia agli impatti climatici, come il riscaldamento globale, sia agli impatti di attività antropiche, come la pesca illegale, l'inquinamento e l'introduzione di specie aliene. La banca dati realizzata dall'osservatorio censisce le specie animali e vegetali che sono state protette o ritenute vulnerabili dalle convenzioni internazionali e che vivono sull'isola e nei suoi mari. Le attività svolte dall'osservatorio consentono di conoscere e censire le diverse componenti della biodiversità dell'isola. Lo studio della biodiversità degli ambienti marini e terrestri consente anche il monitoraggio della salute degli ecosistemi e rappresenta la base conoscitiva indispensabile per supportare la pianificazione, la programmazione e la gestione territoriale e ambientale nella regione siciliana. La sede siciliana dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR, curano la parte marina dell'osservatorio. L'ISPRA ha identificato e georeferenziato le specie animali e vegetali marine protette o ritenute in pericolo dalle convenzioni internazionali. Con la propria nave oceanografica da ricerca Astrea, ha esplorato ambienti ancora poco conosciuti per colmare un vuoto di conoscenza nella biodiversità dell'isola. Inoltre, l'ISPRA ha acquisito nuovi dati sulla biodiversità nelle aree marine protette e in altre aree che potranno essere salvaguardate nel futuro. I dati e le informazioni acquisiti sono trasferiti agli stakeholder, agli organi di vigilanza e ai decisori pubblici al fine di essere utilizzati nel modo migliore per la tutela dell'ecosistema marino. Enti di ricerca, università, aree marine protette, parchi e riserve hanno collaborato al progetto dell'osservatorio costituendo una vera rete per la raccolta di dati a lungo termine e per la programmazione di interventi integrati, finalizzati alla conservazione e valorizzazione della biodiversità marina siciliana. La creazione di un sistema di cooperazione fra questi soggetti sarà un ulteriore contributo dell'osservatorio affinché questo rilevante patrimonio naturalistico, culturale, scientifico ed economico di estrema rilevanza per l'ecologia dell'intero Mediterraneo non venga più minacciato. Per colmare le ampie lacune di conoscenza oggi esistenti sulla biodiversità degli ambienti marini estremi, come i vulcani sottomarini delle isole eolie e i bassifondi remoti dello stretto di Sicilia, l'ISPRA ha condotto quattro campagne di monitoraggio e di ricerca con la nave Astrea, che è dotata delle più moderne strumentazioni per le indagini sottomarine non invasive. Sono stati infatti utilizzati il MultiBeam, un ecoscandaglio multifascio in grado di creare mappe tridimensionali dei fondali estremamente accurate, e il ROV, un veicolo robotico filo guidato che raccoglie immagini ad alta definizione e campioni fino a una profondità di 500 metri. Lo stretto di Sicilia, spesso chiamato impropriamente canale, nasconde una sorprendente biodiversità custodita nei numerosi bassifondi, detti banchi, finora pressoché sconosciuti dal punto di vista ecologico. I banchi rappresentano per i subacquei e i pescatori ricreativi un ambiente del mito, ma purtroppo sono spesso sfruttati anche dalla pesca illegale. Tra tutti i bassifondi dello stretto di Sicilia sono stati scelti per gli studi dell'osservatorio quelli più vicini alla costa siciliana, cioè il Banco Avventura, il Banco di Pantelleria e il Banco Graham. Quest'ultimo in particolare è costituito da numerosi coni vulcanici come quello di Ferdinandea, la famosa isola che è emersa nel 1831 e si è inabissata solo sei mesi dopo. Sono vere e proprie montagne sommerse di origine vulcanica o sedimentaria, che partendo dalle profondità della piattaforma continentale, arrivano sino a pochi metri dalla superficie del mare. Essendo ambienti del largo, sono quasi incontaminati e ospitano una sorprendente biodiversità. I banchi dello stretto di Sicilia rappresentano per certi versi delle aree marine naturalmente protette. Almeno questo è avvenuto sino a oggi, essendo queste al riparo dall'impatto antropico come la pesca, l'inquinamento e il turismo, e anche dalle influenze della costa come l'apporto terrigeno e i nutrienti trasportati dai corsi d'acqua. Per questo motivo i banchi sono ricchi di habitat e di specie protette o minacciate e giocano un rilevante ruolo ecologico sul funzionamento dell'intero mediterraneo. 20 miglia a nord-est dell'isola di Pantelleria sorge l'omonimo banco. È un bassofondo molto esteso e poco profondo. I suoi fondali ospitano grandi distese di alti sargassi, tra cui si aggirano cernie, ricciole e saraghi. Il banco avventura sorge solo 19 miglia a sud-est di Mazzara del Vallo. La parte meno profonda del banco, che è chiamata Cappello, è a 14 metri dalla superficie. Il robot sottomarino dell'Ispra ha consentito di osservare per la prima volta in Mediterraneo decine di acquile di mare in chiaro atteggiamento riproduttivo. Il banco è anche popolato da foreste di rare laminarie, presenti solo in Pantelleria. poche aree del Mediterraneo e da vaste tratterie di Posidonia, che è la pianta marina più importante del bacino. I fondali sabbiosi ai margini del banco sono ricoperti di distese di coralli molli che non erano mai stati osservati altrove con tale densità. Il banco Graham è invece costituito da numerosi edifici vulcanici, caratterizzati tutti da una biodiversità ricca, che però è diversa per ognuno di questi. Se le parti più superficiali, intorno ai 50-70 metri, sono ricche di gorgonie, nelle parti più profonde, a partire dai 100-150 metri, si trovano in maniera abbondante i rari coralli neri, ascidie e coralli molli. Nelle pareti più protette del banco vive il corallo rosso, che qui ha colori particolarmente accesi, il famoso corallo di sciacca. Tutta l'area è rifugio delle cernie di Haifa e delle cernie nere, che si muovono imponenti e indisturbate. Alla base di Ferdinandea, il cono vulcanico che fu isola, emersa a circa 12 miglia dalla città di Sciacca, sorprende una rilevante attività idrotermale con emissione di gas e con camini simili a quelli osservati nell'arcipelago eoliano. Gli obiettivi principali da conseguire con l'attività di monitoraggio dei banchi sono stati raggiunti. È stata realizzata una mappatura dei banchi attraverso il multibim e sono state ottenute carte geomorfologiche e bionomiche georeferenziate. È stata studiata la biodiversità associata ai singoli banchi tramite i censimenti visuali effettuati con sistemi remoti e campionamenti strumentali. È stato realizzato il censimento delle specie vegetali e animali e degli habitat sottoposti a tutela o ritenuti a rischio dalle direttive e dalle convenzioni internazionali, come la direttiva habitat e la convenzione di Barcellona. I risultati si sono rivelati inaspettati. Sui banchi studiati vivono 150 specie animali e vegetali delle quali ben 18 sono specie protette. 13 sono invece gli habitat tutelati dalle convenzioni internazionali. I banchi si mostrano ambienti preziosi e fragili che necessitano rapidamente di strumenti di tutela. Poco si conosce oggi anche della biodiversità in aree vulcaniche con idrotermalismo attivo. Per questa ragione questi ambienti sono stati studiati sia nell'area dei banchi che nelle isole eolie e in particolare intorno all'isola di Panarea. Gli ambienti marini con fenomeni idrotermali, superficiali e profondi rappresentano degli hotspot di biodiversità, ma allo stesso tempo possono costituire anche una causa di alterazione naturale della biodiversità interspecifica ed ecosistemica marina attraverso l'emissione di contaminanti. Due aree con caratteristiche vulcaniche e biologiche molto differenti fra loro sono state studiate nelle acque di Panarea, una a bassa profondità vicino allo scoglio di Lisca Bianca e l'altra su fondali profondi a oriente dello scoglio di Basiluzzo. Il Black Point, a 18 metri di profondità, vicino allo scoglio di Lisca Bianca, generato dall'attività idrotermale parossistica emissiva del 2002, attorno al quale si è creato un ambiente particolarmente acido, caratterizzato da alti livelli di anidride carbonica, è caldo e ricco di zolfo colloidale, su cui si è sviluppato una peculiare vita microbica. A largo dell'isolotto di Basiluzzo, a una profondità compresa tra gli 80 e i 300 metri, è stata scoperta una vasta area di attività vulcanica a bassa temperatura, caratterizzata da un susseguirsi di fondali dal caratteristico colore rossastro, in cui piccoli animali tubicoli costituiscono ampie faces che si alternano alla presenza di bioconcrezioni che ospitano specie sessili dai colori accesi. Il diradarsi della luce naturale risalta ancora di più le numerose e sparse strutture simili a camini vulcanici, che si innalzano dal fondale assumendo forme e colori caratteristici legati alla composizione di minerali ferrosi e sulfurei, sui quali si insediano spettacolari forme di vita, avvalorando l'ipotesi di un flusso di energia generato dall'attività microbica che utilizza le sostanze chimiche di origine vulcanica. Si tratta di uno dei più estesi e profondi sistemi idrotermali conosciuti nel Mediterraneo. Equipe di studiosi dell'ISPRA, coadiuvati da colleghi della Stazione Zoologica di Napoli, dell'Istituto Scienze Marine e dell'Ambiente Marino Costiero del CNR, dell'Università delle Marche, Messina e Genova e dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, stanno studiando questi fenomeni in quello che è un vero e proprio laboratorio in mare aperto. Negli ultimi anni, lo studio dei fondali marini ha potuto avvalersi di strumenti sempre più sofisticati per la mappatura tridimensionale, come il multibeam, un ecoscandaglio multifascio. Questo strumento è in grado di proiettare sul fondale marino un numero elevatissimo di impulsi acustici, misurando in poche frazioni di secondo la profondità in migliaia di punti diversi, anche a grande distanza dalla nave. Elaborando e analizzando questa enorme mole di dati raccolti, è possibile creare mappe tridimensionali del fondale estremamente accurate e mettere in evidenza la presenza di qualsiasi struttura presente sul fondale, come montagne sommerse, secche rocciose e anche relitti di navi affondate. È stata utilizzata una camera bentica, un dispositivo di forma cilindrica che posizionato sul fondo permette di misurare tutti i flussi di energia tra il sottosuolo e l'ambiente circostante. Questo dispositivo consente di prelevare in automatico campioni indisturbati di acqua, che verranno poi analizzati in laboratorio. La camera è dotata di sonda multiparametrica per il monitoraggio in continuo dell'acqua confinata e in particolare per rilevare dati di temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto e H, potenziale ossido riduzione e salinità. Inoltre, utilizzando Benne e Boxcorer, sono stati raccolti numerosi campioni di sedimento, successivamente analizzati per studiare le microscopiche forme di vita che li abitano, come policheti, piccoli crostacei e molluschi. Il censimento delle specie protette e minacciate, lo studio della vita nei banchi dello stretto di Sicilia e della biodiversità nei vulcani sommersi dell'arcipelago eoliano hanno mostrato che i mari siciliani sono ambienti ricchi di biodiversità, ma ancora largamente sconosciuti e in grado di nascondere patrimoni sommersi ecologicamente, naturalisticamente e culturalmente preziosi, tanto da costituire anche importanti opportunità economiche e occupazionali attraverso una loro utilizzazione ecocompatibile e sostenibile. Perché ciò avvenga, la biodiversità dei mari siciliani va però protetta e difesa dalle mille minacce che imperversano su di loro e che, come abbiamo osservato, hanno oggi raggiunto il livello di soglia. Una conservazione del patrimonio naturalistico marino potrà però essere conseguita solo nell'ambito di un progetto condiviso con gli altri paesi del bacino mediterraneo. La cooperazione internazionale, che si può sviluppare sia nel campo della ricerca scientifica, sia nelle strategie di gestione di tale patrimonio, assume quindi oggi un ruolo fondamentale affinché le azioni di tutela intraprese possano essere ancora più efficaci e il valore della biodiversità possa essere preservato in modo duraturo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.